Hai presente le persone che ti dicono Ma come fai ad essere ancora single? Hm... Bene. Allora tu, persona dotata di infinita pazienza, cordialmente devi spiegare all'inutile testa di cazzo che ti ha posto questa stupidissima domanda che essere single non significa non essere in grado di stare con qualcuno o magari avere un carattere di merda. Essere single significa aver capito con il tempo, con l'esperienza e con gli errori fatti che nella vita non bisogna guardare all'esterno e cercare qualcuno che riempia i propri buchi o la propria solitudine ma bisogna guardarsi dentro perché dentro ognuno di noi trova una bella persona simpatica con degli amici che nonostante nella vita abbia affrontato tante situazioni anche negative, drammatiche è sempre stata in grado di rialzarsi in ogni situazione e a volte è stata in grado anche di avverare i propri sogni e questa persona semplicemente in questo momento non ha trovato nessuno in grado di dare un valore aggiunto alla propria vita perché è questo quello che deve fare una persona che sta al nostro fianco deve dare un valore aggiunto no una serie infinita di limitazioni proprio per questo motivo questa bella persona ha preferito volersi bene e in completa libertà ha deciso di amare se stessa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti